E così, in un piovoso pomeriggio di fine agosto, è arrivata la notizia che a molti ormai pareva in fondo impossibile. Charlie Watts, il leggendario batterista dei Rolling Stones, è morto ad 80 anni per complicazioni successive a un intervento cardiaco. Da poco aveva annunciato che non avrebbe potuto partecipare al tour autunnale del gruppo, ma a nessuno era venuto in mente che questa pietra angolare del rock avrebbe potuto smettere di rotolare. Con quel contegno distaccato da vecchio jazzman inglese, così diverso dall'irrequietezza di Jagger e Richards, Watts rappresentava un'anomalia in una band che più di tutte simboleggiava il magnetismo animale del rock and roll. Ma più di una volta i suoi compagni avevano riconosciuto come quel suo tamburellare granitico e senza fronzoli rappresentasse forse il tassello più importante della band. A differenza di Brian Jones, annegato in piscina a soli 27 anni, Watts era invecchiato insieme al suo pubblico e oggi è a lui che spetta l'ingrato compito di ricordare che anche le divinità del rock prima o poi devono andarsene.